I reati contestati restano pesanti, ma il più grave, quello di associazione a delinquere, riceve una picconata che potrebbe incidere su tutto il processo, ad Antonello Montante e alle pedine della sua sistema. È proprio il concetto di sistema che vacilla. La Cassazione ha annullato con il rinvio la parte della misura cautelare dello scorso maggio in cui veniva contestata l'ipotesi di associazione a delinquere finalizzata a commettere una sfilza di altri reati. Significa che il riesame dovrà di nuovo valutare la posizione degli indagati, che nel frattempo sono divenuti imputati. Senza l'associazione a delinquere rischia davvero di cambiare tutto, innanzitutto il luogo dove si radica il processo. Senza l'associazione però resterebbero anche in piedi singoli capi di imputazione. Si tratta di corruzioni, favoria, attività di spionaggio, raccomandazioni per far carriera, bonifiche, uffici. Tutti reati cosiddetti fine, cioè commessi al fine di eseguire il delitto di associazione a delinquere. Senza l'associazione però si potrebbe anche verificare uno spacchettamento delle singole ipotesi di reato commesse in giro per l'Italia. Da Caltanissetta a Roma, da Milano a Palermo. E poi c'è il tema della pena, che per tutti gli indagati, qualora arrivasse una condanna, diventerebbero molto più pesanti, vista che la sola partecipazione all'associazione prevede da 1 a 5 anni di carcere. Anzi di più, visto che viene contestata l'aggravante di aver costituito una banda criminale con più di 10 persone. Figuriamoci per montante, considerate il capo e promotore. La condanna nel suo caso supererebbe i 15 anni di carcere, associate alle altre contestazioni. A cascata anche per gli altri imputati, le cose potrebbero cambiare. La gran parte dei reati, infatti, viene contestata con l'aggravante di averli commessi in virtù dell'esistenza dell'associazione a delinquere. Alla luce di tutto ciò, c'è da attendersi una nuova richiesta di scarcerazione da parte dei difensori di montante, visto che, dicono, le esigenze cautelari sono legate proprio al reato di associazione.